Domenica è la giornata dei migranti e del rifugiato, però la Caritas, la diocesi di Crotone, grazie al suo anche impegno, ha organizzato una tre giorni diversa. Cominciamo dal pranzo etnico. Cosa avete fatto per questo pranzo etnico? Quante persone stanno arrivando? Abbiamo voluto sentirvi il sapore di casa, proponendo anche un piatto etnico, il couscous, preparato da responsabili del sportello migrante, che è una moglie di Angerino, che cucina bene la cucina araba. Saranno gli ospiti della mensa, che saranno circa 60-70 ragazzi che vengono a mangiare qui. Questa è la proposta che abbiamo voluto fare per questa giornata. E porteranno via il cibo, quindi è un momento di pranzo d'asporto? Sì, diciamo dal lockdown la mensa dei poveri ha fatto questa, diciamo, tecnica e anche possibilità di dare a dare a trasporto, perché organizzare nell'espazio viene un po' difficile per i numeri di ospiti della mensa. In un momento come questo, in cui c'è una grande attenzione sui migranti, sugli sbarchi e la paura anche del covid, questa iniziativa è per dire che non bisogna lasciarli da soli? Certo, c'è sempre il bisogno. Noi cerchiamo di fare il massimo a quello che ha bisogno, a sostenerli non solo i migranti, ma anche tutti gli italiani, dare il nostro contributo e con sicurezza, questa è la cosa principale. Tu sei la cuoca qui alla mensa dei poveri e particolarmente in questa giornata in cui si parla di migranti e di rifugiati, il tuo impegno è sicuramente al massimo. Direi di sì, oggi è stata una giornata molto particolare ma molto molto bella. Abbiamo cucinato qualcosa della tradizione magrebina, più che altro del Nord Africa, però è un piatto che amano tutti rispetto alla pasta, comunque tutti i migranti amano questi sapori particolari speziati. Sono molto contenta che i ragazzi hanno lavorato molto. Solo per oggi sono la cuoca, è stata un'esperienza stupenda comunque. Sei ben inserita a Crotone? Abbastanza, sì sì sì, ormai sono 23 anni che sono qui. Poi lavoro anche con i migranti, sapendo molte lingue, essendo madrelingua di francesi, mi viene molto semplice anche parlare con i ragazzi, capirli, perché non è soltanto parlare, ma anche capire quello che vogliono, che molti non sono di lingua francese oppure inglese e non riescono bene ad interpretare quello che vogliono veramente dire. E il mio ruolo sarebbe proprio questo, di capire effettivamente il loro bisogno. Anche una frittata di patate? Sì, effettivamente sì, abbiamo fatto una frittata di patate per chi come alternativa preferisce qualcosa di più conosciuto rispetto a un couscous. Anche la parte di patate?